ad un anno dal sisma riapre la chiesa di san decenzio arretramento della ferrovia pesaro progetta la linea verde sui binari che saranno dismessi saldi da posticipare a marzo la richiesta arriva in regione torna la festa dell'olio e dell'oliva di cartoceto va agli archivi il festival gad e pensa già all'edizione di capitale della cultura buona serata ben ritrovati al nostro rossini news in questa giornata di oggi martedì 31 ottobre che apriamo occupandoci delle celebrazioni delle festività di ogni santi di domani primo novembre ricorrenza in cui la città di pesaro vedrà tornare agibile la chiesa di san decenzio danneggiata dal terremoto di un anno fa si tratta del secondo simbolo religioso recuperato dai danni del sisma dopo la statua della madonna dei capuccini ristrutturata questa estate ad un anno dal terremoto del 9 novembre scorso riapre alle funzioni religiose la chiesa monumentale di san decenzio chiesa interna al cimitero centrale è considerata la più antica di pesaro fu tra gli edifici religiosi feriti dal sisma e da allora reso inagibile ma dopo opere di risanamento tornerà a disposizione dei fedeli in una data non casuale quella della festività di ogni santi sarà il vescovo sandro salvucci ad ufficiare la celebrazione eucaristica prevista le 15 30 del mercoledì primo novembre dedicato a tutti i santi al quale lo stesso arcivescovo farà seguire la funzione dedicata alla memoria dei defunti del 2 di novembre si tratta del secondo repristino religioso post sisma dopo la statua della madonna dei cappuccini restituita alla comunità a fine agosto resta ancora in attesa invece la complessa messa in sicurezza della pieve di candelara che fu fortemente danneggiata dalle scosse di terremoto per quel che riguarda san decenzio la chiesa è di proprietà del comune e da oltre un secolo è custodita dai frati cappuccini un luogo di culto ritrovato che apre le porte anche ad un tesoro archeologico troppo spesso dimenticato come quello della cripta sottostante la chiesa stessa sulla quale c'è una mozione comunale a sostegno della valorizzazione a firma dei consiglieri Anna Maria Mattioli e Giampiero Bellucci la cripta è la prima basilica cristiana di Pesaro è veramente un peccato tenerla nascosta ai tanti studiosi ai tanti giovani studenti che potrebbero diciamo avere uno studio appropriato proprio su questo su questo sito archeologico che è importantissimo e che in pochi conoscono quindi noi abbiamo presentato in consiglio comunale insieme al consigliere Bellucci una mozione per riqualificare la chiesa aprirla in orari prestabiliti e aprirla anche alle scuole al FAI abbiamo chiesto anche con un bando di studiare un percorso per la riqualificazione delle tombe monumentali storiche e un percorso artistico e un percorso turistico anche in vista della capitale 2024 penso che sia un valore aggiunto ancora più forte per riqualificare il nostro sito cimiteriale che è pieno e ricco di tanta tanta storia si torna a parlare del maxi progetto dell'arretramento della ferrovia argomento che oggi ha visto nella giunta comunale di Pesaro l'approvazione di un accordo con ferrovie dello Stato per cominciare a progettare la cosiddetta green line che il comune vorrebbe creare sui binari dismessi vediamo il comune di Pesaro guarda con fiducia l'arretramento della ferrovia e comincia a pensare all'annessa realizzazione della cosiddetta green line oggi è infatti stato approvato in giunta lo schema di protocollo d'intesa tra il comune e ferrovie dello Stato sistemi urbani per la riqualificazione e rigenerazione urbana connessa alla dismissione dell'attuale linea ferroviaria nello specifico fra la Fornace Mancini e Fosso Seiore dopo l'annuncio dell'arrivo dei fondi destinati all'ammodernamento e il miglioramento della linea adriatica nel quale rientra anche il tratto marchigiano di Pesaro e di Fano per 1 miliardo e 800 milioni di euro il protocollo consentirà al comune di passare ad una fase di progettazione il sindaco Ricci punta da oltre un anno all'idea di realizzare un'infrastruttura delle benessere dedicata al trasporto pubblico locale elettrico una linea verde dove potranno circolare mezzi elettrici pubblici, biciclette e pedoni una pratica già positivamente sperimentata in metropoli come New York, Parigi o Valencia lo scopo del documento che sarà firmato a Roma nelle prossime settimane è infatti quello di definire un piano di azioni condiviso per realizzare un workshop per la riqualificazione e valorizzazione delle aree riguardanti la conversione della linea ferroviaria dismessa un lavoro che si snoderà in due fasi nei primi mesi del 2024 la prima fase prevede il coinvolgimento di figure del mondo della cultura architettonica esperti di rigenerazione urbana in un dibattito che dovrà coinvolgere cittadini, stakeholder e associazioni di categoria nella seconda fase si approfondirà l'elaborazione di alcuni scenari di sviluppo urbano obiettivi che il comune vuole centrare avvalendosi anche del supporto di un ente scientifico di ricerca specializzato in trasformazioni urbani conseguenti a rifunzionalizzazioni di assi ferroviari in via di dismissione Nel Consiglio Comunale di ieri è stata respinta con 18 voti contrari e 8 favorevoli la mozione proposta dal consigliere Dario Andreolli che chiedeva l'azzeramento del CDA di Marche Multiservizi in ragione delle scelte relative alla realizzazione della discarica di riceci Il sindaco Matteo Ricci nell'occasione ha reputato come inutile chiedere dimissioni quando la partita risulta ormai incanalata su una discarica irrealizzabile per mancanza di requisiti e per contrarietà delle stesse amministrazioni interessate Ricci sollecita in tal senso una presa di posizione della Regione che porti concretamente a ragionare il luogo in cui realizzare un'altra discarica di rifiuti speciali Dal Consiglio Comunale passiamo al Consiglio Provinciale che oggi invece ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2023-2025 mettendo a terra alcuni dei fondi di ripristino dai danni dell'alluvione annunciati dal commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo nella sua visita di un mese fa Interventi canalizzati sulla viabilità con oltre 13 milioni di euro relativi a lavori straordinari da effettuare dopo l'alluvione del settembre 2022 Dallo Stato verrà anticipato il 20% del finanziamento altri 10 milioni saranno invece necessari per fronteggiare gli interventi straordinari relativi all'alluvione dello scorso maggio Va in archivio un mese di ottobre da caldo record effetti climatici che si ripercuotono anche nel commercio non si vendono capi d'abbigliamento invernali e questo è anche uno dei motivi per cui le associazioni di categoria hanno chiesto di posticipare i saldi invernali dal 5 gennaio al 1 marzo richiesta che ora arriva sul tavolo della regione Marche Va in archivio un mese di ottobre da temperature stabilmente sopra i 20 gradi ed è un effetto climatico che sembra avere anche risvolti sul commercio pesarese in particolare sul comparto dell'abbigliamento che vive un preoccupante stallo sulla vendita dei capi invernali che va a mettere un ulteriore carico su un già diffuso calo dei consumi Confesercenti nei giorni scorsi ha inviato una lettera alla regione Marche per chiedere di posticipare i saldi invernali attualmente fissati al 5 gennaio 2024 e ripensarli per il prossimo primo di marzo un rinvio che invece Confcommercio invoca da anni anche per i saldi estivi richieste che ora arrivano sul tavolo del Consiglio regionale con una interrogazione portata da Andrea Biancani Ho presentato appunto questa interrogazione urgente anche perché chi decide la data non è la regione ma è il governo ed è importante che la regione Marche porti questa esigenza in conferenza Stato-Regioni anche perché la data dei saldi, di inizio dei saldi non è una data che ogni regione decide a sé anche perché soprattutto i territori di confine come siamo ad esempio noi con la Emilia Romagna sarebbe assurdo che ad esempio in Emilia Romagna gli sconti partano 15 giorni prima e ovviamente avrebbe un impatto negativo sulle attività presenti nel nostro territorio e quindi è per questo che l'inizio dei saldi viene definito a livello nazionale io mi auguro che la regione prenda sul serio questa richiesta perché le nostre attività hanno bisogno di sostegni in un periodo anche economico molto difficile perché è un'attività riuscire ad andare incontro a questa richiesta che oggi hanno fatto mi sembra molto importante Come preannunciato dall'assessore comunale Enzo Belloni dopo la prima settimana di tolleranza da ieri sono arrivate le multe e le rimozioni di auto per le vetture che non rispettano i divieti di sosta nei viale interessati dalla pulizia straordinaria della zona mare 23 le multe e 17 le auto rimosse nella giornata di ieri Ricordiamo che Viale Trieste, Viale Trento e Viale Battisti verranno ripulite alternativamente ogni giorno feriale dalle 12 alle 18 fino a fine dicembre con giorni dei divieti indicati da apposita segnalettica lungo le tre strade in questione Vi ricordiamo che continua l'allerta arancione per forti raffiche di vento in tutta la regione Marche fino alla mezzanotte di oggi Vento che questa notte ha procurato una violenta amareggiata lungo il litorale di Fano procurando danneggiamenti alla pavimentazione della passeggiata dell'Esippo Restando a Fano l'equipe medica dell'ospedale Santa Croce ha effettuato nella notte un prelievo multiorgano da una donna di 71 anni ricoverata e deceduta ieri nel reparto di rianimazione Grazie al consenso dei familiari è stata effettuata una donazione di reni, fegato e cornee La direzione dell'azienda sanitaria provinciale sottolinea la decisione di estrema generosità presa in un momento di dolore che consentirà di salvare altre vite A Pesaro è iniziato il lavoro di restauro della scultura a linea porta a mare di Viale Trieste che fu realizzata da Loreno Sguanci nel 1976 un'opera che mostra segni evidenti degli effetti corrosivi di Salsedine e Aria Salmastra e che ora verrà riqualificata grazie al restauro avallato dal comune e sostenuto dal Lions Club Pesaro della Rovere Ed ora cambiamo argomento per due domeniche quella del 5 del 12 novembre torna a Cartoceto DOP il Festival dell'Olio si ripropone per la 46esima edizione con tanti appuntamenti ma anche con problematiche agricole legate proprio agli sbalzi climatici che quest'anno hanno limitato la raccolta delle olive Anche quest'anno in un anno un po' particolare per l'agricoltura ritorna appunto la nostra Kermesse la nostra festa dell'olio anche nuove novità e anche la tradizione quindi cerchiamo sempre di mixare originalità e tradizione una manifestazione che parte ben 46 anni fa ma che ha avuto un cambiamento di format nel 2014 quando a fronte della vecchia struttura di Cartoceto un mostro al mercato dell'olio e dell'oliva si è trasformato in Cartoceto dopo il Festival perché si è voluto unire assieme a quello che è una festa dell'olio un contenitore che era anche culturale pur essendo gli olivi molto belli la fioritura è stata danneggiata per le temperature e le variazioni e quindi quest'anno si è poco oliva quindi è un anno normalmente se uno dice l'olivo fa un anno sì e un anno no quest'anno l'anno che ne ha fatte poche ne ha fatte molto poche la cosa positiva io dico di quest'anno è che in realtà gli olivi si sono rinforzati perché c'è stata una pioggia diciamo sufficiente a rinforzare le piante e quindi abbiamo le piante in un ottimo stato quindi siamo ottimisti guardando la prossima stagione sulla piazza principale ci sarà l'esposizione dei produttori lo stand gastronomico della Proloco con i prodotti tipici su via Umberto I i mestieranti con gli ambulanti che sempre avranno a tema l'olio e i prodotti tipici sulle varie piazzette in alto ci sarà una degustazione di lini con l'Aisne e l'Isomiglie e di qua c'è un'altra associazione sempre del nostro territorio che è la Via della Seta che rappresenteranno canti storici e i prodotti e gli articoli del territorio che si usavano nell'agricoltura del passato grande novità di quest'anno sempre in piazza Garibaldi un cooking show con alcuni chef stellati della nostra provincia quindi ci saranno tre momenti nei due pomeriggi 5 novembre e 12 novembre le due date di Cartocetto dopo il festival due pomeriggi piazza Garibaldi sarà aglietata da questi chef ci saranno degustazioni e anche vini d'eccellenza proseguono poi ovviamente le iniziative in piazza 20 settembre con i mestieri quindi gli stand degli artigiani e invece in Via Marcolini ci sarà il mercato del gusto quindi un po' diciamo vari stand invece alimentari avremo ovviamente gli spettacoli a teatro quest'anno grande attesa per due grandi artisti la prima domenica avremo Simona Molinari vincitice del premio Tenco e avremo la seconda domenica invece Gemon che anche lui quest'anno porta un po' una novità nel nostro bellissimo teatro perché non sarà solo un concerto ma sarà un vero e proprio spettacolo quindi un nuovo linguaggio nel nostro bellissimo teatro in questa cornice così suggestiva non dimentichiamo ovviamente la collaborazione preziosissima con le scuole con l'Istituto Santa Marta di Pesaro con il Celli di Piobbico ci sarà infatti quest'anno una novità i ragazzi dell'Istituto Cecchia dell'Istituto Comprensivo Marco Polo andranno in azienda proprio per vedere sul campo che cosa significa fare l'agricoltore ovviamente ci saranno i sentieri verdi quindi le nostre passeggiate in bici e a piedi non mancheranno gli autoraduni e il motoraduni in tutte e due le domeniche quindi che dire davvero come sempre vi aspettiamo e siamo pronti ad accogliervi e a fare una nuova edizione di Cartoceto dopo il Festival Dagli eventi passiamo al teatro perché si è chiuso domenica il Festival GAD vediamo chi è stato il vincitore di questa 76esima edizione ricordandovi lo speciale che trasmetteremo su Rossini TV venerdì 3 novembre alle ore 21.40 Va in archivio la 76esima edizione del Festival Nazionale d'Arte Drammatica GAD domenica il teatro Rossini è andata in scena la tradizionale premiazione mattutina degli otto spettacoli in concorso per l'edizione 2023 che fra le tante categorie premiate ha segnato il riconoscimento massimo di miglior spettacolo a nove giorni proposto dalla compagnia Teatro Villaggio Indipendente di Settimo Torinese Lavorare con quella giuria e quella giuria di oggi sono stati grandi stimoli e sono stati stimoli anche a riportare poi all'interno della compagnia e quindi all'interno del lavoro per migliorarsi sempre di più e quindi ecco nove giorni il lavoro che abbiamo fatto su nove giorni su questa storia di questo Paolo che parte per la guerra di Russia senza neanche sapere dov'era la Russia Questo testo è nato soprattutto nelle case nelle case delle persone perché noi prima di andare in scena in teatro siamo andati a casa di amici a casa di persone che avevano il piacere di ospitarci per ascoltare il testo lì abbiamo collaudato che cosa volesse dire il testo di narrazione e lì abbiamo fatto modifiche su suggerimenti delle persone che hanno ascoltato che hanno ascoltato il testo I premi sono stati assegnati dalla giuria del concorso presieduta da Antonio Caponigro e dalla giuria studenti tra questi anche l'ormai tradizionale premio Claudio Sora offerto da Rossini TV che ha incoronato come miglior trailer quello dello spettacolo così è se vi pare della compagnia Avalon di Battipaglia anche quest'anno è successo che qualcuno ha fatto incetta di premi qualcuno molto meno però ripeto la giuria rivendica questo desiderio di essere sincera nelle proprie nelle proprie valutazioni anche quando sono difficili perché poi noi premiamo c'è un premiato ci sono tre finalisti per ogni premio ma tante volte è difficile lasciare fuori un quarto lasciare fuori un quinto e quindi è difficile anche dire guarda secondo la giuria valevi quasi quanto però ripeto con molta serietà e serenità direi anche portiamo avanti il lavoro con questa con questa finalità che poi è quella che conferisce un ulteriore valore al festival perché chi sa che è premiato al festival sa che è premiato secondo un criterio di valore che non è condizionato da null'altro si aspettavamo un'elezione importante perché dopo anni di anche forte crescita in particolar modo di ampliamento del pubblico rispetto ai più giovani e gli studenti che sono stati i veri protagonisti della giuria ma anche del racconto del festival e le compagnie con sempre più entusiasmo anche della formula compatta che ravvicina gli spettacoli e quindi permette anche di rimanere più giorni a peso seguire i lavori degli altri insomma la vera dimensione di festival fondamentalmente e poi naturalmente l'abbinata del ritorno al teatro Rossini che chiaramente anche se gli anni allo sperimentale hanno creato una forte empatia con il pubblico più vicino al palco però chiaramente il ritorno al teatro Rossini ha permesso anche di esprimersi con scenografie più importanti con spettacoli anche più anche più strutturati questa edizione è stata direi superlativa ed è dovuto grazie all'impegno di tutti dalle segretarie e dal da tutti quelli che hanno portato un piccolo mattone più grande o più piccolo rispetto agli altri perché questa edizione fosse veramente una prodromica al Pesaro 24 capitale della cultura e chiudiamo questa edizione parlando dello sport pareggio 1 a 1 ieri sera per la Vispesaro al Benelli nel posticipo contro il Pineto i gol sono arrivati a metà primo tempo col vantaggio abruzzese ripreso nell'arco di due minuti dal gol su calcio d'angolo di Zagnoni per la Vis si tratta del sesto turno utile consecutivo domani ci sarà invece la seconda partita in otto giorni per l'Ital Service nella massima serie di calcio a 5 dopo la vittoria ritrovata con Pomezia alle 17 ci sarà il turno infrasettimanale nella trasferta siciliana di Catania per quanto riguarda l'AVL è arrivato a Pesaro il centro lituano Egidius Mokevicius ingaggiato la scorsa settimana Mokevicius è stato sottoposto oggi alle visite mediche di Rito presso il centro Fisioclinics e punta ad essere a disposizione per la sfida che l'AVL disputerà sabato sera la Vitri Frigo Arena con Napoli eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale ma restate su Rossini TV perché questa sera in prima serata alle 21.20 vedremo la presentazione della terza edizione dell'itinerario archeologico della Confcommercio Marche Nord e poi vi ricordiamo che anche se domani è festa noi ci saremo con la nostra rassegna stampa quindi accendete la TV domani alle 7.20 sul canale 80 o seguiteci su Facebook perché ritorna Buongiorno Rossini e intanto vi andiamo anche ad anticipare i prossimi ospiti di Insieme a Canestro infatti giovedì sera in diretta su Rossini TV una puntata veramente molto attesa perché si parlerà di questa scorsa partita importantissima e si parlerà anche della partita che si disputerà appunto sabato alla Vitri Frigo Arena quindi gli ospiti saranno Stefano Cioppi che è il direttore sportivo della Carpegna Prosciutto e Michele Maggioli ex giocatore della VL vi ricordo di commentare in diretta perché potrete vincere i biglietti per la prossima partita e allora grazie a tutti voi per averci seguito buona notte di Halloween e chiaramente buon giorno di festa per la giornata di domani a presto grazie a tutti Grazie a tutti.